Come si chiama quel dipinto che vuoi vedere? La Madonna del Gran Duca di Raffaello. E dove si trova? Non lo so, ma figurati, basta domandarlo. Senta, scusi, sa dove è la Madonna del Gran Duca? Che? Del Gran Duca? No, no, non l'ho mai vista. Scusate, sapete dove è la Madonna del Gran Duca? La Madonna di chi? La Madonna di Gran Duca di Raffaello. Nonno. Ma come, siete studenti? Sì, ma facciamolo scientifico. No, di questa offre... Ci scusi, noi non ci siamo. Mi dispiace, signore, ma nella guida non la trovo. Buongiorno. Il palazzo degli ospiti, che vedete, è stato costruito dai basari, il sottocosimo primo. Il palazzo gli è circondato da un pattico in cui i filastri ospitano 28 statue. Senta, scusi, sa dove è la Madonna del Gran Duca? La Madonna di... No, mai sentita, signore? E va bene, giriamoci ora. Le statue, dicevo, raffigurano i nostri personaggi toscani. La Madonna del Gran Duca, ma certone di sì, si trova alla Galleria Pitti, insieme a un altro celebre dipinto di Raffaello, la Madonna del Baldechino. Molte grazie. Prego. E dove sarà adesso questa galleria? Il primo straniero che troviamo ce lo chiediamo. Il primo straniero che troviamo ce lo chiediamo, è stato costruito di Raffaello, la Madonna del Gran Duca, 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 la Madonna del Gran Duca.